Una Luciano dall'agenzia Casa Oggi, le Jordan Rosse, questa mattina a Montesilvani, via Morrone, incrocio via L'Abruzzo per vedere un appartamento in questo fabbricato che Simone inquadra, ingresso autonomo, un ampio terrazzo per l'estate, soprattutto una sala, una cucina, due camere, due bagni e il balcone che avete visto. Se la tipologia che fa per voi, compreso anche questo, diciamo, ripostiglio garage, se siete interessati a questa tipologia, naturalmente seguite il video, adesso entriamo, guardiamo la casa, stanza per stanza, altrimenti vi spostate, è passata al prossimo video. Ma per chi è interessato a questa tipologia, adesso, vamos! Qua siamo all'ingresso dell'appartamento, ma prima di entrare con Simona, volevo farvi vedere questo terrazzo, se me li inquadri Simona è meraviglioso, immaginate d'estate, ci si può vivere cinque mesi l'anno comodamente, e un altro terrazzino avviacente, veramente molto bello. Quindi l'ingresso autonomo, saliamo queste scale, questi due terrazzini e adesso entriamo all'interno. Il fabbricato è in perfetta condizione, da questa parte, se la Simona mi inquadra, c'è la sala, che potrebbe essere una terza camera, da questa parte abbiamo una cucina molto comoda, molto abitabile, perfetto, sei bravissima, qui c'è una camera matrimoniale con bagno, è una camera di circa 16 metri, anche forse 17, con questo bagno, completamente ristrutturato, come vedete la casa è in perfette condizioni. Scusate, così Simona mi segue, da questa parte invece c'è un servizio, anche questo completamente ristrutturato. Da quest'altra parte invece c'è la camera, con questo balcone, che ci tenevo a far vedere perché è anche un bel balcone, anche se abbiamo quel terrazzo meraviglioso, abbiamo questo balcone. Perfetto, allora se mi segui, se ce la fai, se sei così rapido e veloce come me, come dico sempre velocissimi, eccoci qua, quindi a questo terrazzo chiudiamo, vi ricordiamo la tipologia, siamo in via Morrone, angolo via Labruzzo, ingresso autonomo, un garage cantina, abbiamo questo terrazzo, una sala e una cucina, due camere e due bagni. Se volete maggiori informazioni andate sul nostro sito www.casalogimontesilvano.it, sono abbastanza veloce, poi c'è Instagram, c'è TikTok, c'è Facebook, dove c'è la nostra pagina, ma se volete vedere la casa e constatare di persona quella che avete visto, con la quale avete già un'idea ben precisa, naturalmente chiamate il numero sotto. Quindi se la casa vi è piaciuta, io vi do appuntamento al prossimo video. Per adesso vi saluto, adios! Grazie! 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 Grazie!